I consiglieri comunali di minoranza Daniela Garau e Daniele Mele del Patto Civico e Monica Azori della Lega hanno presentato una mozione al Presidente del Consiglio Comunale Federico Fantinell e al Sindaco di Carbonia Pietro Morittu con la quale chiedono l'applicazione del decreto PUC, progetti utili alla collettività per i percettori del reddito di cittadinanza. La mozione, se venisse approvata, impegnerebbe il Sindaco Pietro Morittu e la sua giunta, ciascuno per le proprie competenze, a predisporre entro 60 giorni i progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni cui saranno tenuti offrendo la loro disponibilità, i beneficiari del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4,15 del decreto legge numero 4 del 2019. La mozione impegnerebbe altresì il Sindaco e la giunta a realizzare celermente ogni azione utile e necessaria al fine di rendere attuabili questi progetti e coinvolgere i residenti nel Comune di Carbonia, beneficiari del reddito di cittadinanza, tenuti a svolgere lavori di pubblica utilità in un'ottica di potenziamento e supporto dei servizi civici alla collettività. E infine l'amministrazione comunale a controllare e monitorare l'effettiva partecipazione ai progetti utili alla collettività dei residenti nel Comune di Carbonia per settori del reddito di cittadinanza.